Morale, rigore, onestà sono alcune delle parole pronunciate da Gianluca Santorelli, figlio di William, nel ricordare il padre durante la funzione funebre nel Nuomo di Fano, celebrata questa mattina alle 10.30. Un ricordo lungo e calorato, quello del figlio del decano, dei commercialisti della provincia di Pesaro, che da poco tempo ha la presidenza anche del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Un uomo, un padre, un marito sempre presente nei momenti che contavano per la famiglia ed i figli, ha sottolineato Gianluca, anche se le cariche che ricopriva lo portavano spesso via da casa per diverso tempo. Il Duomo di Fano ha accolto in questa assolata mattina, oltre che la famiglia ed i parenti, diversi professionisti della città di diverse categorie professionali, oltre che molti esponenti politici, a testimonianza di quanto significativa ed incisiva sul tessuto della città sia stata la vita sia professionale che personale di William. Oltre a diversi componenti del Consiglio Comunale, anche il primo cittadino ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza alla famiglia Santorelli, evidenziando come la morte di William Santorelli privi la città di una figura di alto profilo morale e professionale. Santorelli ha fatto tanto anche per la Nazione Italia, maggiormente nel periodo della sua permanenza a Roma in ambito ministeriale. Infatti molte leggi economiche hanno ricevuto il suo sostanziale contributo tecnico. Per questo ed altri meriti nel 2001 fu insegnito dall'alora Presidente della Repubblica Ciampi del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica. Don Mauro Barniesi, parco di San Cristoforo, dove Santorelli e la sua famiglia hanno seguito l'insegnamento cristiano, che ha ufficiato il rito questa mattina, ha voluto rinnovare il messaggio di speranza per chi ha fede nella vita eterna, trasformando così questo distacco non come in una fine ma come un inizio di una nuova vita. Ricordando poi l'uomo Santorelli, Don Mauro ha testimoniato ai presenti come assieme alla moglie Maria Elisa e gli abbia costruito la sua vocazione, ovvero la famiglia. Prima dell'ultimo saluto è stato soprattutto il mondo professionale e le persone che hanno collaborato con lui nel periodo della sua presidenza come consiglieri responsabili ad essere vicino alla famiglia, come anche il mondo accademico e di vertici nazionali dell'ordine e quelli locali, come il presidente dell'ordine di Pesaro e Urbino. Assolutamente, la scomparsa di William, oltre che essere stato un grande amico, è sicuramente una figura di grande risalto per tutta la comunità, sia quella locale che quella nazionale. La sua scomparsa lascia un voto incolmabile perché quello che ha fatto e quello che ha dedicato lui alla professione è stato sicuramente il massimo che poteva dare, è stato il trade union per quello che ha costituito l'unificazione del nostro ordine, quello dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri e a livello nazionale lo testimoniano anche le persone che oggi sono presenti a questo funerale, quindi è sicuramente stata una figura di grande spicco.